Tiziana Guerra, 44 anni, sposata con Ivan da 21, mamma tempo pieno di due figli, appassionata di hobbistica creativa, musica, coltivazioni biologiche, pratica tiro a segno, da agonista. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché grazie al movimento che ha incontrato la politica, un mondo fino ad allora totalmente distante, per far rivivere la città partendo dalla sua storia e dal suo presente per dare vita al suo futuro. Sogna con De Pasquale Sindaco una nuova gestione del territorio e delle sue realtà in grado di creare basi solide sulle quali costruire uno sviluppo costante e certo della nostra città che porti a un futuro vivibile per i nostri figli.